Provincia Granda Vi proporremo attività entusiasmanti e vi faremo assaporare i prodotti tipici, in modo naturale e nel pieno rispetto delle tradizioni locali. Sui nostri Alpi potrete fare sceltimismo, fondo e discesa, golf, equitazione, rafting lungo i nostri torrenti e mountain bike, da praticarsi sul nostro territorio a seconda della stagione e delle vostre richieste. Sul nostro territorio è inoltre possibile praticare arrampicata su roccia, su ghiaccio e su terreno artificiale, permettendovi di scegliere itinerari commisurate le vostre capacità. Nella Valmaira si ergono curiosi pittoreschi monumenti naturali, noti come Ciccio del Villar. Queste sculture morfologiche sono paragonabili a funghi rocciosi. Queste sono solo alcune bellezze architettoniche che possiamo proporvi nei nostri molteplici itinerari. In un angolo delle Alpi marittime, situato tra le valli Gessi e Stura, si staglia il complesso del santuario di Sant'Anna, che con i suoi 2035 metri di altezza, ha il primato di essere il santuario più alto d'Europa. Vi presentiamo una selezione di grotte dai meravigliosi lagirinti di sale e gallerie decorate completamente dalla natura. A metà strada, tra il mare e le montagne, troviamo complessi termali che vantano origini molto antiche. Mangiare è una necessità, mangiare intelligentemente è un'arte. Se siete appassionati di ricette e di cucina, non potete perdervi i nostri itinerari culinari, volti a promuovere le eccellenze enogastronomiche del nostro territorio. Tramite ristoranti e locali convenzionati potrete assaporare rinomati piatti tipici. La nostra provincia organizza fiere di ordine territoriale e internazionale, distribuite nei diversi periodi dell'anno. Grazie a tutti.